Lui, il gigante buono Ai mano al cai mano Io, il più forte su YouTube Italia E lui, il Gabibbo Che con i piedi invertiti giocherà questa partita I tre che si sfideranno Italia contro Italia VAMOS TUTTI Oggi ragazzi ci risolto un nuovo video E oggi Crossbar Challenge Italia-Inghilterra Pronostico con le Crossbar Io sarò l'Italia Lui sarò l'Italia Io l'Inghilterra Hello, il mio nome è Cane Cane Possiamo entrare con il V No, non ti credo No, non ti credo No, non ti credo No, non ti credo Si Si No Vai, sicuro tiro per l'Italia Lascia un besci male, una torre in Ghisterra Tocca me Tocca me No, tiro per l'Italia Prova sul raddoppio in Inghilterra Parte il giro Vai No, lo vittivo è prenderla attraverso 1-0 in Inghilterra Cosa? Cosa? Vabbè, grazie Io vorrei in Inghilterra Terzo tiro Grazie Vabbè, in Inghilterra Stava sul raddoppio Che cazzo lo dico? Non mi eva lo atti Andale, andale Stai scarpi da calcio Non è giusto, eh Stai un po' a denunciare Vai, ho fatto un po' Goal, come Stai un po' a denunciare 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 Inghilterra 2-0 forse Ha 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 Arriva in Inghilterra e non minchino. Anche anche se erano in due. Eccolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.